in questo video vediamo come utilizzare le gallerie realizzate con gli stati oggetto per mostrare dei prodotti in questo caso dei modelli di plotter selezioniamo il nostro stato oggetto che è stato realizzato unendo quattro immagini che contengono la fotografia e il testo dei nostri prodotti come vedete sono semplicemente quattro modelli di plotter quindi ognuna di queste non è altro che un'immagine fotografica e qui a lato è stato realizzato un pulsante che sarà il pulsante che ci permette di navigare all'interno di ogni singolo stato con delle miniature di ogni singolo modello ora vediamo il risultato finale e poi smonteremo questo stato oggetto così vedete anche come smontare eventuali stati realizzati precedentemente guardiamo l'anteprima nella nostra finestra di anteprima in interattività e pub schiacciando il pulsante di ogni modello compare l'immagine jpeg corrispondente che in questo caso contiene testo ed immagine del nostro prodotto quindi è molto semplice navigare all'interno di questa galleria premendo su ogni singola miniatura e facendo comparire tutte le informazioni necessarie le informazioni ovviamente possono anche essere dei gruppi di oggetto come già spiegato precedentemente per smontare uno stato oggetto che è stato realizzato basta selezionare lo stato vedete che lo stato è selezionato da questo tratteggio azzurro che circonda lo stato stesso e dal menu laterale della palette stati oggetto è possibile rilasciare tutti gli stati come oggetto come oggetti a questo punto viene mostrato un avvertimento che indica che tutti gli elementi sarà perderanno la loro interattività e che rimarranno posizionati sul foglio confermiamo questa scelta nella finestra stati oggetto non è più presente nessun elemento e i nostri elementi grafici che appunto sono solo dei delle immagini fotografiche contenenti testi e fotografie vengono rilasciati sul foglio e possiamo tranquillamente muoverli e spostarli sul nostro documento quindi volendo possiamo anche riselezionarli riallinearli come erano posizionati precedentemente e ricreare nuovamente gli stati oggetto a questo punto però dovremo rifare il collegamento tra il pulsante e relativo stato oggetto quindi iniziamo selezionando le nostre immagini dal menu laterale nuovo stato come abbiamo mostrato nei filmati precedenti ogni immagine va a collocarsi all'interno di uno stato e abbiamo detto possiamo ordinare gli stati come meglio crediamo per fare in modo che sia visibile come primo stato quello che ci interessa di più e poi ogni pulsante deve andare a uno stato per fare questo serve della finestra pulsanti e moduli come avevo detto e dobbiamo associare al pulsante l'azione di andare allo stato relativo allo stato relativo al prodotto che desideriamo quindi il pulsante questo qui azzurro deve andare allo stato con il prodotto azzurro che è questo qua poi il pulsante verde dovrà andare allo stato verde se trovate difficoltoso individuare lo stato a cui dovete dirigervi potete anche dare un nome a questi stati perché altrimenti come si può vedere da qui è difficile vedere dalla miniatura se lo stato scelto è quello corretto vediamo prima di tutto se siamo riusciti a collegare in modo corretto i nostri due pulsanti quindi il pulsante 1 è questo blu il pulsante 2 questo verde gli altri due sono ancora da realizzare se avete bisogno di dare i nomi comunque ai vostri stati oggetto proprio perché le miniature sono troppo piccole basta selezionare il vostro stato andare nella finestra stati oggetto e fare doppio clic sul nome dello stato e a questo punto dare il nome ad ogni singolo stato come meglio vi è più comodo per cui a volte è necessario fare più volte clic finché non si attiva lo stato e lo chiamerete plotter 1 plotter 2 plotter 3 eccetera quindi potete anche nominare gli stati quando le miniature come in questo caso rendono difficoltoso individuare esattamente il tipo di plotter a cui associare il pulsante quindi è molto semplice montare e smontare i vostri stati oggetto all'interno del vostro documento di editoria digitale